Adam White è venuto per l'Australia dopo una settimana. Come è la tua prima season in Italia? È stata una buona season. È stato un po' più alto. Abbiamo iniziato bene e non abbiamo finito molto forte. Per me è stata una buona esperienza per me. Come crei che hai cresciuto in questa semplice? All'inizio è stato un po' più sicuro di cosa aspettare. All'inizio è stato un po' più semplice. All'inizio è stato un po' più semplice. All'inizio è stato un po' più aggressivo e stabile. Questo è quello che mi piace di essere stabile. Come è stato un po' più grande giusto per vivere in Verona? Quale è stato per vivere in Verona? Cosa vuole dire sui miei famigli? Aspettare a Verona è stato davvero bene e i miei fanci sono grandi. Abbiamo avuto un'altra parte di ogni gioco. Questo è quello che come giocatori possiamo apprezzare. Abbiamo avuto un'altra parte di avere il mio supporto. Quindi è stato davvero bene avere i miei fanci qui. e hanno fatto un buon lavoro aiutandoci a noi. Quali sono i tuoi plani per le prossime settimane? Le prossime settimane sono abbastanza busy con l'organizzazione e il viaggio per l'Australia e iniziare con la squadra nazionale preparazione per la Liga Mondiale quindi non c'è molto resta. Ci vediamo. La prossima stagione. Grazie a tutti.